picciotti di sicilia tutto tondo allora che cos'è questa la mano di carlo che ci indica quanto è grosso questo cannolo dove siamo amore c'è unità di misura la mia mano una mare tanticchia questo è il cannolo del bar erice siamo in una frazione di erice siamo a napola e siamo venuti qui ad assaggiare questo specialità il cannolo e questa che è la graffa piccola graffetta piccolina piccolina tutto con la ricotta ora assaggiamo facciamo un taste vediamo qual è il più buono questo è quello di me a mesi quello di dati sono tutti buoni diamo la grandezza e questo è bene e beh direi guarda qua pronti per l'assaggio state picciotti questo è quello che resta della nostra graffetta perché abbiamo fatto su facebook abbiamo fatto il taglio ma l'assaggio lo facciamo anche per voi youtube youtube meravigliosa non riescivo a parlare perché è fritta piena di ricotta di gocce di cioccolato una ricotta molto buona allora però ora ti aspetta fermo fermo lasciamola a me stai fermo però ora adesso ti aspetta il super cannolo per qua ci vuole un rito ci vuole una bella aggiornata in primo piano siamo pronti pronti prima un bacetto vai bacetto e poi assaggio allora com'è amore questo cannolo una bomba una bomba vero ora ci dai le tue le tue opinioni ovviamente sta finendo quindi l'abbiamo assaggiato bene in un altro morsettino glielo possono dare sì però adesso abbassa e bello croccante si considerazione amore come vedi nel centro è molto più spesso è più grosso bello croccante rispetto a quello di dattilo diverso da quello di dattilo che era fino al centro era più fino però tutto pienissimo di ricotta la ricotta è un po grezza è un po dolce un mix tra dattilo e piani gli albanesi ci sono le gocce di cioccolato ma soprattutto è molto 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 croccante più croccante di tutte sì è buonissimo devo dire la verità voto 10 voto 10 anche a questo cannolo veramente complimenti allora picciotti dopo tutte queste specialità che abbiamo assaggiato vi mandiamo un grande saluto da tutto lo staff e il pareri ciao ciao picciotti alla prossima ciao